Questo ponte è stato dedicato a mio papà il 7 novembre dell'anno scorso, si chiama Ponte Martini, che era il nome di battaglia di mio padre, che era partigiano nella brigata volante severino della Ligorna, il cui comandante era il mitico comandante Gino Michele Campanella. Gli è stato intitolato questo ponte, proprio questo qua dell'Arizona, perché mio papà dal 1947 fino alla sua morte ha vissuto qui, nel palazzo, al numero 7 di Via Sertoli. Sono nata anch'io qua nel 1959, proprio al 7, all'interno 24 della scala A, dove la mia famiglia ha vissuto fino al 1939, anno in cui i miei nonni sono stati trasferiti qua da Via Molassana. È nata nel 59, quindi ero proprio piccola, però certo di personaggi dai combattenti ne abbiamo visti passare tanti. Per un po' di tempo ho fatto la maestra, la supplente di scuola elementare qui a Molassana, fino a che poi non è nato mio figlio e mi sono fermata. Ho fatto per un po' una specie di carriera politica nel consiglio di circoscrizione, ma me ne sono allontanata presto. E poi ho cominciato a lavorare nell'associazione Nuovo Cip, a collaborare con il circolo Sertoli.